Quando Pino mi ha detto di questo convegno abbiamo pensato da Monsedice, dove io sono sindaco e anche medico, di portare delle esperienze del nostro territorio proprio. Quindi facciamo una relazione un po' diversa da quelle che abbiamo sentito fino adesso. La prima cosa che volevo dire, e che poi è l'esito di quello che è anche emerso tra ieri e oggi, è il futuro e i ragazzi e quello che è l'apprendimento dei giovani e dei ragazzi. Il futuro e dei giovani, a Monsedice abbiamo finanziato al liceo scientifico di Monsedice un progetto di robotica nel liceo scientifico. È iniziato due anni fa, sono ragazzi dai 15 ai 17 anni. E questi in due anni hanno fatto tanto di quella esperienza in robotica che l'altra settimana quando hanno inaugurato una mostra della robotica che hanno organizzato, che hanno fatto loro, siamo rimasti un po' sorpresi di tutto quello che sono riusciti a fare ragazzi dai 15 ai 18 anni. Ai 17 anni. Allora, innanzitutto sono stati quelli che hanno portato in una casa di riposo Può fare andare il filmatino? In una casa di riposo dei robot Nano e Pepper e questa è una casa di riposo vicino a Monsedice, una residenza per anziani vicino a Monsedice dove ci sono questo robot antropomorfo che dialoga un po' con gli anziani e poi gli fa fare anche un po' di ginnastica. Però, contemporaneamente, questi ragazzi hanno imparato a costruire robot Nano e robot Lego. Li costruiscono loro con pochissimi soldi anche. Quindi il futuro veramente sta cambiando. Stiamo parlando di investimenti di 40 euro per costruire un piccolo robot. Cioè lo ordinano, poi se lo costruiscono e poi lo programmano. Adesso stanno preparando un progetto che partirà il prossimo anno, in gennaio, con la pediatria per dei robot Nano e Lego che porteranno in pediatria per giocare con i bambini ricoverati. Allora, io perché dico queste cose? Perché il futuro sarà sicuramente dei gioi... Io sono di una certa età, chiaramente sono nato in un'era diversa. I giovani di oggi hanno davanti un futuro incredibile. Nella riunione, nell'inaugurazione che è stata fatta l'altra settimana di questa mostra, i ragazzi parlando con loro hanno iniziato a parlare di intelligenza artificiale. E qui mi ricollego un po' a quello che ha detto l'amico Claudio, l'amico Dario. Intelligenza artificiale e robot cognitivi. Allora sentivo parlare ragazzi di 15-16 anni di robot cognitivi. E mi dicevano che loro stanno... discutono tra di loro, perché ci sarà sicuramente il futuro con l'interazione con l'uomo. Saranno dei robot che impareranno con l'esperienza da soli a crescere con degli algoritmi, che sono collegati in rete, che avranno l'accesso ai big data. È un problema che loro si sono posti e che forse bisognerà in futuro porselo. E quando è che si può iniziare a parlare di intelligenza artificiale e coscienza? Questo è un problema etico non da sottovalutare, perché i big data sono così tanti, ve l'abbiamo sentito adesso da Claudio, da Dario, e sono così tanti. E questi sono... I robot cognitivi saranno collegati a questo mondo dei big data, avranno degli algoritmi di apprendimento e poi apprenderanno da soli, non avranno bisogno dell'uomo per andare avanti. È un problema che loro si sono posti e... perché poi la cosa più logica diceva, coscienza sì, ma a un certo punto lo puoi sempre spegnere. Siamo sicuri che un domani possiamo sempre spegnerli, questi robot parliamo del futuro. Questo è uno dei problemi che ho sentito parlare ai ragazzi dai 15 ai 17 anni la settimana scorsa. Io adesso inviterei il dottor Manoni, che è il nostro direttore del Dipartimento di Laboratorio Analisi del nostro ospedale, per parlare di quello che è stato fatto di robotica, qui parliamo di una robotica tradizionale, cioè è una robotica, nel nostro ospedale nuovo di Monselice, che è un ospedale dove abbiamo chiuso quattro ospedali e ne abbiamo fatto uno solo. Quindi sono stati chiusi quattro ospedali e è stato fatto un nuovo ospedale unico di 450 posti letto, altamente tecnologico, moderno e aperto solo da tre anni. Buona giornata. Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori per questa opportunità. Non è frequente avere una platea così qualificata e soprattutto poter presentare un qualcosa che attiene la nostra professione. La medicina di laboratorio è oggi un presupposto fondamentale per qualunque decisione in ambito medico e quindi sempre di più crescono le necessità di informazione che la medicina di laboratorio può fornire. Questo però crea una problematica che è quella di fornire una risposta numericamente e qualitativamente adeguata per far sì che non venga poi disperso tutto quello che da questa risposta viene generato. E il nostro obiettivo era quello di riuscire a compendiare due problemi contingenti. Quello della scarsità di personale e quello di riuscire a qualificare su standard molto elevati tutto il processo analitico. Naturalmente esempi di automazione e di robotizzazione sono presenti in tutto il mondo quasi sempre però mirati alla produzione. La produzione del dato come se questo fosse un prodotto industriale. La nostra ambizione invece è far sì che proprio secondo i criteri della medicina di precisione ogni dato sia modulato sul paziente a cui è rivolto. Uno degli ambiti della medicina di laboratorio nella quale le risorse umane venivano spese prima dell'automazione era la fase preanalitica. Cioè tutto quello che precede la fase analitica nel trattamento del campione nella sua identificazione nel suo processo prima di renderlo accessibile alle analisi. Come vedete si parla di circa il 60% delle ore di lavoro e quindi è un dato sul quale noi siamo andati a incidere perché esiste già un'automazione analitica ma l'automazione preanalitica cioè il processo del campione è un qualcosa ancora non ottimizzato e noi su questo ci siamo focalizzati. L'altro aspetto cioè quello della qualità è abbiamo assunto dalla letteratura un dato inequivocabile. L'80% degli errori di laboratorio sono legati proprio alla fase preanalitica e quindi affrontare questo challenge questa grossa sfida sia da un punto di vista delle ore lavorative che noi dovevamo chiedere in supero ai nostri operatori e dall'altra parte migliorare il processo perché qualunque analisi non può essere migliore del campione che la origina è chiaro che dovevamo innovare e innovare in modo pesante e abbiamo preso a modello ad esempio quelli che sono gli schemi di Felder che ha teorizzato quelle che possono essere le tipologie di automazione per i laboratori in buona sostanza su un laboratorio che ha i nostri volumi l'automazione totale può essere la soluzione migliore chiaramente necessita di un grosso investimento in termini progettuali e anche in termini di coesione del team che deve produrre questo progetto perché chiaramente serve il contributo di tutti nessuno è stato estraneo alla realizzazione del progetto sia la componente amministrativa dell'ospedale nella realizzazione delle gare noi abbiamo fatto 25 gare per realizzare quello che vedrete sia tutto il contributo dei professionisti che intervengono in questo processo mi piace sottolineare gli aspetti qualitativi di questa progettazione cioè il controllo dell'errore preanalitico un tempo di risposta molto abbattuto una maggiore sicurezza degli operatori minore linee diagnostiche l'integrazione tra processi diagnostici diversi sulla stessa piattaforma tecnologica un aspetto importante è la modellizzazione del progetto cioè non esiste una soluzione che vada bene in tutte le realtà perché ogni realtà è connotata con dei reparti con un'utenza ambulatoriale con delle esigenze che la differenziano dalle altre quando sentivo parlare il dottor Dario della sottrazione bene noi al nostro processo abbiamo sottratto tutta una serie di attività che venivano svolte manualmente che invece sono state robotizzate da questa automazione quindi in buona sostanza questo è stato il layout che abbiamo definito 27 strumenti interconnessi con sistemi di trasporto e integrati con un loro software che noi chiamiamo middleware perché interposto tra i software strumentali e quello gestionale del laboratorio e voi capite ecco questo è il layout avevamo bisogno di uno spazio adeguato e il nuovo ospedale ci dava questa possibilità con tutte le condizioni ottimali e parliamo di alimentazione elettrica sembra strano siamo nel 2017 ma non tutte le strutture sanitarie hanno questi presupposti la staticità i condotti per i rifiuti selezionati tra quelli urbani quelli speciali e quelli tossico nocivi un rispetto del personale per cui non il personale interviene nella sala macchine chiamiamola così soltanto incidentalmente per rifornire le strumentazioni ma opera in una sorta di cabina di regia che gli permette quindi la migliore concentrazione questo è un'immagine del nostro laboratorio il nostro laboratorio è stato realizzato in meno di un anno dalla fase progettuale all'acquisizione di tutti i contratti con le aziende tramite gare europee fino alla realizzazione che è avvenuta nel periodo natalizio con personale non cattolico per non turbare il rispetto delle festività natalizie bene dopo tutte queste chiacchiere adesso vi mostro un filmato che prego di mandare avanti dove vedete una brevissima presentazione dell'ospedale e del laboratorio io interverrò soltanto per le cose che meritano un commento questo è l'accesso al nostro ospedale questo è l'atrio questo è il nostro punto prelievi dove accedono quotidianamente circa 300 utenti e questa è la struttura di laboratorio i campioni sono tutti sigillati entrano nel processo vengono identificati tramite codice a barre vengono disposti sul modulo trasportatore e poi successivamente hanno tutte le lavorazioni di processo a cui facevo riferimento prima la centrifugazione che è robotizzata ci sono due centrifughe che lavorano in modo complementare e poi tutta la teoria delle strumentazioni che pescano dal nastro trasportatore il campione necessario all'analisi sulla base di un software che tramite l'identificazione del campione con il carrier che vedete queste coppe che trasferiscono le provette che hanno un chip all'interno che viene rilevato man mano che il campione avanza e che quindi dà un'identificazione univoca a ogni campione del paziente viene trasferito questo è un campione ematologico viene trasferito nel contaglobuli adesso vedremo invece la parte di chimica clinica questi sono gli analizzatori automatizzati che praticamente hanno la totale automazione della parte analitica abbiamo integrato non soltanto la chimica clinica l'ematologia l'immunometria l'immunologia l'allergologia ma anche la microbiologia che sembrava una frontiera inespugnabile e vedete questa è la semina di campioni microbiologici che dal tampone vengono trasferiti in un liquido con il liquido vengono poi seminati in tempo reale in qualunque ora del giorno quindi non c'è più quel gap di tempo necessario per far sì che il campione potesse essere seminato e infine lo smaltimento dei campioni allora tutto questo processo ovviamente deve essere fortemente governato perché dove c'è la robotizzazione c'è l'automazione ma possiamo automatizzare anche una serie di fesserie enormi quello che è il controllo è la parte cruciale del processo e qui vedete i nostri tecnici che sono a verificare ogni singola analisi in base a tutto un algoritmo che permette controlli di qualità sulla seduta analitica la verifica del controllo nell'ambito di un programma per laboratori europeo e nazionale ed infine la refertazione che è con la firma elettronica per cui il nostro referto non è più cartaceo arriva nella cartella clinica del paziente nei reparti o arriva scaricato tramite internet a domicilio del paziente Marcello Corso è un collega che mi ha aiutato nel riuscire a condensare in così poco tempo quello che è un processo abbastanza complesso e proseguirei con tre slide con i risultati che abbiamo ottenuto da questo laboratorio automatizzato un aspetto che normalmente non si considera ma che ritengo fondamentale soprattutto per il paziente cioè il contenimento del prelievo abbiamo contenuto di nove millilitri per ciascun prelievo la quantità di sangue prelevata al paziente e questo per i pazienti soprattutto fragili soprattutto quelli con vene scarsamente accessibili diventa un fatto importante oppure per il paziente ricoverato che deve fare tre controlli al giorno voi capite che se noi moltiplichiamo questi nove ml per tre volte al giorno ne abbiamo una quantità di sangue importante soprattutto quando il ricovero è prolungato l'altro aspetto le provette consumate noi siamo portati a pensare che la plastica sia un qualcosa di poco costo è così noi abbiamo un costo per provetta di 20 centesimi se però lo moltiplichiamo per 327 mila provette recuperate perché sul trek cioè sul nastro trasportatore nello stesso campione possono pescare più analizzatori noi abbiamo recuperato delle provette e abbiamo ridotto i tempi di processo l'altro aspetto importante da un punto di vista ambientale è la riduzione delle tonnellate di rifiuti generati dal sangue e dalle provette volendo monetizzare questi aspetti cioè quello delle provette e quelle dei rifiuti ci accorgiamo che abbiamo recuperato circa 80 mila euro l'anno e non è poco e faceva parte del piano di finanziamento di questa modernizzazione l'altro aspetto veniva da che cosa ho detto dal prendiamo in esame il tempo di risposta due minuti e concludo il tempo di risposta è fondamentale soprattutto nelle urgenze ma le urgenze sono in equilibrio con la routine se io vedo che una routine in ospedale mi arriva la sera chiederò l'urgenza se ho la necessità organizzativa di avere la risposta in mattinata per poter prendere una decisione se mantenere il ricovero oppure dimettere la persona oppure instaurare e cambiare terapia quindi ci sono dei momenti decisionali che normalmente nel ritmo di un ospedale sono nell'ambito della mattinata o nel primo pomeriggio e questo noi dobbiamo cercare di essere funzionali a questo altrimenti noi ci troveremo soverchiati dalle urgenze a cui non riusciremo a dare dei tempi adeguati quando tra queste urgenze c'è un'emergenza quindi poter dare dei tempi di risposta come vedete estremamente contenuti alla routine parliamo della routine la grossa routine biochimica ematologia coagulazione esame delle urine e emogas entro 38 minuti di media è un qualcosa che ci ha posto ai livelli di eccellenza mondiali su questo fatto e come vedete la routine che utilizza lo stesso percorso allo stesso tempo solo si avvantaggia del fatto che nel pomeriggio e nella notte il campione non trova altri che lo procedono quindi ecco la differenza però il processo è il medesimo unificare le linee la routine e le urgenze ha prodotto un recupero di risorse che poi vediamo nel budget ecco qua voi vedete che per un numero di test refertati grosso modo identico siamo sui 3 milioni di esami con una differenza di 82 mila dovuto ai criteri di appropriatezza che nel frattempo sono stati implementati noi abbiamo ridotto la spesa per i diagnostici di 146 mila euro e del personale che faceva ricorso allo straordinario per le reperibilità di 325 mila euro se sommiamo queste cifre agli 80 mila euro del recupero delle provette eccetera ne viene fuori un piano di finanziamento in cui il recupero netto a fronte dell'investimento spalmato su 7 anni è di circa 200 mila euro l'anno in buona sostanza qui vedete il monitoraggio del nostro budget fatto dal controllo di gestione siamo assolutamente in linea e siamo praticamente sotto del 7% rispetto al budget pattuito io vi ringrazio per l'attenzione spero di essere stato nei tempi nelle attese dei moderatori vi ringrazio arrivederci